Grazie a tutti. E' giusto che ognuno lavori alle soluzioni per il ruolo che ha. Io devo fare l'assessore regionale all'agricoltura e faccio l'assessore regionale all'agricoltura in una regione straordinaria. Le slide sono in inglese, io ovviamente parlerò in italiano visto che la maggior parte del pubblico in sala è italiana. Noi siamo una regione che ha un'agricoltura importantissima che dietro poi produce un'enogastronomia importantissima. Il Forbes anni fa ha detto che qui c'è la gastronomia migliore del mondo, molti giornali continuano a dire che la cucina migliore del mondo è l'Emilia-Romagna. Io non lo so, nel senso che sono per mia natura portata a pensare che c'è qualcosa di bello ovunque, però so che qui mangiamo molto bene in effetti. E soprattutto che l'agroalimentare è un pilastro assoluto della nostra economia. E quindi che intorno a questo una regione che era molto povera dopo la seconda guerra mondiale ha sviluppato una gran parte del suo sviluppo e della prosperità che adesso ne fa una delle regioni più ricche d'Europa. Noi abbiamo come vedete un po' di più di un milione di ettari di area agricola effettivamente utilizzata. Abbiamo circa 65.000 aziende agricole, anche se poi solo la metà di queste conduce agricoltura in senso professionale. C'è un numero di lavoratori che riguarda l'intero sistema agroalimentare che supera le 300.000 persone. 76.000 sono direttamente in agricoltura, gli altri sono nella trasformazione agroindustriale o artigianale e nel packaging e nella logistica legata all'agroalimentare. Abbiamo 6 miliardi e 8 di produzione agricola, ma soprattutto abbiamo, lì sono ancora indicati 5 miliardi e 9 del 2016, sappiamo già che nel 2017 probabilmente supereranno i 6 miliardi e mezzo, una quota di export dell'agroalimentare italiano enorme perché da soli facciamo più del 15%. Siamo famosi perché abbiamo 44 prodotti a denominazione geografica, che sono quei prodotti che sono legati alla cultura, alla storia del territorio, che non sono, la cui produzione è fatta di una filiera estremamente controllata, ma soprattutto che è estremamente legata ai luoghi e che quindi non sono delocalizzabili per la loro natura. E sono per noi un pilastro dell'agricoltura sostenibile, come poi vi dirò. Noi abbiamo un'agricoltura molto variegata, come vedete si fa un po' di tutto in Emilia-Romagna, per il 45% facciamo produzioni animali, diciamo che l'Emilia è il luogo delle produzioni animali, il 41% delle produzioni sono sull'ortofrutta ed è la Romagna in questo caso che la fa da padrona, mentre i cereali e le culture industriali sono un po' dappertutto in giro per la regione. Noi qui abbiamo, tra Parma e Piacenza, un distretto molto importante che è quello del pomodoro, che poi nel pomeriggio vi porterà, il mio amico Alessandro Piva, l'esperienza specifica anche di quel settore rispetto all'uso dell'acqua. Comunque è un'agricoltura molto complessa ed è un'agricoltura competitiva che compete su un livello alto e che quindi trasformare per renderla sostenibile di fronte al cambiamento climatico è un'operazione abbastanza grossa. Qui vedete qual è l'area irrigata, il 33% dei nostri terreni sono soggetti a irrigazione, ma col cambiamento climatico sappiamo che dobbiamo fare di meglio. L'irrigazione riguarda soprattutto la parte dei cereali e delle foraggiere, scusate, la parte dell'area utilizzata per l'agricoltura riguarda cereali e foraggiere, però vedete che ci sono anche una parte molto interessante che riguarda i vigneti, l'orticoltura, eccetera. Ora l'acqua è vitale per l'agricoltura, questa che vedete è la nostra autostrada dell'acqua, il CER, che è il canale emiliano-romagnolo, un canale che porta l'acqua verso la Romagna, dove altrimenti sarebbe stato difficile realizzare un'agricoltura di questa natura. Però ormai anche questo nostro sistema, che è un sistema ispirato al risparmio da molto tempo, perché l'Emilia-Romagna, contrariamente alle regioni a nord, non ha acqua di scorrimento tutto l'anno. Noi abbiamo dei torrenti che d'estate cessano di dare flussi. Di conseguenza siamo stati abituati storicamente a risparmiare l'acqua e a incanalarla molto, mentre nelle regioni a nord di noi questo si fa meno ancora oggi, proprio perché lì invece i fiumi, ci sono tutto l'anno, c'è sempre acqua di scorrimento. Durante quest'estate, un dato che io ricordo sempre, dove abbiamo avuto una siccità terrificante, soprattutto che ha colpito Parma e Piacenza, Paola prima ve l'ha fatta vedere, noi abbiamo scoperto che noi deriviamo da Po un miliardo di metri cubi d'acqua, mentre le regioni a nord di noi ne derivano 20 miliardi. Quindi c'è un rapporto nell'uso dell'acqua in cui questa regione è oggettivamente una regione virtuosa e può fare comunque a sua volta di più. Ecco, passo molto veloce su questo, però insomma abbiamo già commentato come sia già qui il cambiamento climatico. Vedete come le temperature diventino sempre più estreme, la linea sale, e come in realtà invece decresca purtroppo la frequenza delle piogge. In ogni caso vedete anche da noi un aumento degli eventi estremi, ma queste cose le ha già dette Paola prima, quindi io passo veloce. Questo è il rapporto che esiste sulle acque estive, in particolare il rapporto tra la pioggia e l'evapotraspirazione in pianura tra il 61 e il 2015. Vedete come la situazione sia una situazione che ha un andamento che è estremamente chiaro. Così come è abbastanza agghiacciante questa slide che Arpae ha fatto e che vi dà l'idea di qual era lo stato del bilancio idroclimatico dell'estate scorsa quando abbiamo dichiarato lo stato d'emergenza, lo diceva stamattina il nostro Presidente. Per adattarsi al cambiamento climatico e ridurre le emissioni ci vuole un'agricoltura smart, una climate smart agriculture che è quella che porta avanti la GAX, la Global Alliance for Climate Smart Agriculture che è animata dalla FAO. Noi abbiamo deciso, e siamo l'unica regione italiana ad averlo fatto, di farne parte perché questo è un problema che come abbiamo detto in tutti gli interventi della mattinata richiede un approccio multilaterale e multinazionale, nessuno può pensare ad affrontarlo da solo, nella GAX si mettono in evidenza le migliori pratiche, lì noi possiamo portare le nostre e imparare anche dagli altri. E quindi è per questo che siamo andati, questo è quello che fa la GAX, adesso io ve lo lascio leggere, però l'importanza di stare in una rete di questo genere è la rete stessa proprio, il fatto che possiamo scambiarci soluzioni tecnologiche, soluzioni di governo, di governance del sistema e raggiungere tutti assieme una maggiore efficienza perché non c'è obiettivamente tempo da perdere. Noi ci siamo dati in Emilia Romagna un approccio olistico, prima la collega Gazzolo vi ha fatto vedere come ci sia un approccio alla questione del cambiamento climatico che riguarda tutti i settori dell'economia, nell'ambito del settore agricolo e quindi della Climate Smart Agriculture noi ci siamo dati una politica integrata che riguarda il fatto che naturalmente bisogna lavorare molto sui dati, big data sono molto importanti e fare un monitoraggio molto attento, lavorare ovviamente sulla mitigazione, quindi sull'emettere meno e produrre in modo più sostenibile, lavorare sull'adattamento perché non sarà più come prima, io devo dire che qui c'è uno dei problemi più grossi perché nel settore agricolo c'è ancora un po' troppo fatalismo e ancora non si è, sebbene se ne parli spesso, ancora non si è interiorizzato che il cambiamento climatico c'è, starà qui e bisogna, non si può più fare come si è sempre fatto. Sappiamo che l'inerzia in fisica è considerata una delle forze più potenti e questo vale poi dopo anche applicata alle cose dell'uomo e quindi da questo punto di vista bisogna proprio lavorare molto forte. Lavoriamo con progetti dimostrativi proprio perché permettono di far capire che si può fare, si possono fare delle cose e ottenere dei buoni risultati, ovviamente lavorare sull'innovazione e sulla formazione delle persone e sulle partnership internazionali. Ecco questo è il primo punto, naturalmente il monitoraggio e la raccolta dei dati, qui c'è Arpae che fa un servizio straordinario, se ne è parlato già tutta mattina, noi adesso intorno all'autorità del clima che arriverà a Bologna, di cui vi parlava stamattina il nostro presidente, metteremo anche un grande centro dei big data. In questi giorni il nostro collega Bianchi, che segue in specifico la parte relativa all'università dell'innovazione e la ricerca, era in Israele proprio per lavorare con il nucleo dei big data che è molto forte anche lì, prima è stato a Cambridge, in California, e quindi metteremo assieme anche le forze intorno a questo. E poi naturalmente lavorare sulla mitigazione e le produzioni sostenibili. Ora, noi siamo l'autorità di gestione della politica agricola europea per la parte che riguarda lo sviluppo rurale e quindi abbiamo una responsabilità diretta nel decidere come distribuiamo questi fondi sul territorio per ottenere uno sviluppo sostenibile. Proprio per questo, il nostro piano di sviluppo rurale è 1 miliardo e 200 milioni di euro, quindi è molto importante, 510 milioni abbiamo deciso di dedicarli all'area climatica e ambientale. Questo naturalmente si poteva fare anche in misura minore, invece abbiamo deciso di fare in misura maggiore, poi oltre a quei fondi lì ne abbiamo aggiunti negli anni dal nostro bilancio regionale un'altra trentina, anzi 35, proprio perché questa è una parte che per noi ha un ruolo fondamentale. Quando si deve decidere dove metterle risorse, guardate che si capisce subito, è uno come la pensa, perché puoi metterle da una parte o puoi metterle dall'altra. Probabilmente non paga molto, e mi dispiace dirlo, dal punto di vista elettorale metterle lì. Però c'è una responsabilità verso le future generazioni, io ho questo ruolo, voglio, come dire, anche se quando avrò finito voglio essere sicuro di aver fatto quanto era il mio potere per lavorare soprattutto per le future generazioni. Sappiamo che, insomma, la nostra strategia, la strategia europea è quella di ridurre le emissioni del 20% rispetto al 1990, quindi noi facciamo parte di questo. Cosa abbiamo fatto materialmente? Intanto ho raddoppiato l'agricoltura biologica. Io quando sono arrivata c'erano 78 mila ettari di agricoltura biologica, abbiamo messo le risorse per la conversione per fare in modo che questi agricoltori arrivassero a raddoppiare lo sforzo. E questo è stato fatto, siamo arrivati con il bando dell'altro giorno a 150 mila ettari in Emilia Romagna, quindi il 15% della nostra superficie agricola utile e 5 mila aziende agricole coinvolte ad avere produzione bio in un'agricoltura, come vi dicevo, altamente competitiva. Inoltre c'è tutta la parte relativa alla produzione integrata che è diversa dal biologico ma ci va molto vicino perché fa un uso veramente molto ridotto di chimica e oltretutto usa nell'ambito dei disciplinari anche degli accorgimenti molto importanti rispetto all'uso dell'acqua. C'è poi una parte che è veramente dedicata all'uso delle risorse idriche e dopo ne parleremo in maniera ancora più evidente. C'è una parte, e in questo sono contenta di averlo sentito, di essere nella linea che diceva il professor Richter, che lavora sulla sostanza organica nei suoli, la qualità dei suoli è assolutamente fondamentale, l'agricoltura conservativa, l'agricoltura blu, che è proprio quella che fa il no-till, che fa la semina su sodo e che quindi permette di lavorare sulla sostanza organica, le rese in questo modo, e naturalmente lavorare alle emissioni azottate e alle emissioni di gas clima alteranti nel settore degli allevamenti, che è un settore che, avete visto, riguarda circa la metà della nostra agricoltura e in particolare riguarda il luogo in cui siamo, la parte emiliana della regione. E naturalmente aumentare anche la capacità di sequestro di carbonio, perché l'agricoltura fa questo, da un lato con gli allevamenti può essere un problema per le emissioni, però col sequestro di carbonio è l'unico settore che riesce anche a dare un pezzo di soluzione. Sull'adattamento e sul sostegno agli agricoltori c'è questo progetto che si chiama IRIFRAME partito da IRINET, tutto un meccanismo messo in piedi grazie ai big data che ha ARPA e quindi a tutti i dati raccolti nel corso del tempo, al loro incrocio con la situazione di ogni singola azienda agricola e il suo piano culturale e il fatto che poi con un lavoro molto grosso che è partito appunto dal CER, dal canale Emiliano Romagnolo, siamo in grado di dare un'assistenza in tempo reale, nel senso che alla mattina sul telefono all'agricoltore arriva un avviso che gli dice quando, come rigare, dove, perché, perché il sistema conosce il suo tipo di coltivazioni e conosce le previsioni climatiche, per cui questo sistema applicato a oltre 12.000 aziende agricole che sono registrate ci ha permesso di ottenere una maggiore efficienza nell'uso dell'acqua del 47%, quindi un grande risultato in termini di risparmio d'acqua. Naturalmente poi bisogna lavorare anche a tenersela l'acqua, quindi a raccoglierla, e devo dire che noi quest'anno abbiamo nel piano di sviluppo rurale da gestire solo gli invasi piccoli, nel senso che è stato fatto poi un piano di sviluppo rurale nazionale che invece si occupa degli invasi più grandi, dei 250.000 metri cubi. Mettere assieme la parte nazionale che immagino darà luogo ad alcuni investimenti anche in Emilia-Romagna, si sta preparando adesso la graduatoria nazionale, noi invece sosteniamo le aziende agricole per fare le riserve più piccole, fino a 250.000 metri cubi, e raccogliere l'acqua quando c'è naturalmente. Abbiamo inoltre fatto dei progetti dimostrativi attraverso i programmi LIFE, uno molto, molto importante che è stato presentato alla GAXA, dal governo italiano, come migliore pratica nazionale, si chiama Climate Changer, e R is Emilia-Romagna, the end, e questo è un progetto che si è sviluppato sulle sei filiere principali della nostra regione, quindi il latte alimentare, il latte da parmigiano reggiano, la carne, l'ortofrutta, e tutta un'altra serie di produzioni per cercare di vedere come lungo tutta la catena, quindi dal campo fino al supermercato, era possibile ridurre le emissioni, allo scopo di ottenere alla fine la dimostrazione che è possibile farlo, e quindi ridurre oggettivamente le emissioni, ma soprattutto farlo avendo anche il modello economico che dimostra che tutte quelle pratiche sono sostenibili economicamente per l'agricoltore, per il trasformatore, per il trasportatore, per tutti coloro che sono nella catena, perché se non si dimostra che c'è una fattibilità anche economica la cosa non viene fatta. Questo progetto è un progetto che ha avuto ad esempio al suo interno grandi nomi, Barilla per la parte dei cereali e della pasta, Granarolo per la parte del latte, il consorzio del parmigiano reggiano, i grandi nomi della nostra ortofrutta, e quindi ha riguardato non una quota modesta della nostra agricoltura, ha riguardato una parte molto grossa della nostra agricoltura, e quindi questi risultati sono risultati acquisiti e oggettivi. Il progetto Help Soil invece è un progetto che riguarda proprio la qualità dei suoli, quindi lavorare sui suoli, che da un lato vanno protetti per evitare di continuare a consumarli, ma dall'altro vanno anche protetti dal punto di vista della sostanza organica. Nella pianura emiliano-romagnola la sostanza organica ha dei punti dove è arrivata a 0,6, che è pericolosissimo. Il solo uso dell'agricoltura biologica, per esempio, ha dimostrato che coltivando con quei metodi si riesce nel giro di pochissimo a riportare la sostanza organica intorno al 3-3,4%, se non intorno al 4%, quindi è una cosa molto importante. Questo è il progetto Climate Changer che vi ho già raccontato, ci sono alcune immagini di come si è lavorato in campo, lì vedete i loghi di tutte le aziende coinvolte, ed è stata una grandissima partnership che ha rappresentato appunto il 30% delle imprese agricole della nostra regione, ed è una buona pratica che noi abbiamo portato alla Gaxa perché può essere esportabile. Sto arrivando alla fine, c'è un grosso lavoro da fare sull'innovazione e sulla formazione, sull'innovazione hanno già parlato molti autorevoli speaker questa mattina, noi abbiamo deciso di mettere molti soldi, 50 milioni di euro nel nostro piano di sviluppo rurale sui progetti di innovazione, molte regioni italiane ne hanno messi meno della metà. Noi pensiamo che invece se si vuole fare agricoltura sostenibile ci voglia una grande trasformazione delle modalità con cui si è fatta finora, e la trasformazione la fai solo se fai molta innovazione e trasferimento tecnologico dell'innovazione stessa ovviamente. Lo schema è quello utilizzato dal Partenariato Europeo di Innovazione che è la modalità che l'Europa sta utilizzando, è una modalità molto bella, non molto conosciuta credo, perché parte da gruppi operativi di innovazione in cui si parte dall'agricoltore o dal gruppo di agricoltori che si associa, si mette intorno ricercatori o gruppi di ricercatori per risolvere quel problema e viene finanziato e nell'ambito dei tre anni si fa la ricerca e il trasferimento tecnologico. Il risultato viene immediatamente usato dall'azienda che lo ha proposto però è pubblico e quindi va a alimentare un grande database europeo di innovazioni applicabili in agricoltura. Noi siamo una regione che attualmente ha avviato 93 gruppi operativi di innovazione abbiamo messo una parte di questi fondi anche nei bandi di filiera proprio perché lì c'è un ulteriore elemento di sostenibilità che è un po' complicato adesso da spiegare in due minuti ma vi prego di credermi abbiamo ancora parecchi milioni da investire per altri gruppi operativi vi dirò che l'Emilia Romagna attualmente ha più gruppi operativi dell'intera Francia io ne sono molto orgogliosa nel senso che su questo abbiamo dato veramente una grande impronta ce n'è una parte che sono dedicati esplicitamente a un efficiente uso dell'acqua in agricoltura una parte sul sequestro di carbonio queste parti qui hanno un'intensità d'aiuto che va dall'80 al 100% perché sono proprio quelle su cui noi vogliamo battere naturalmente i risultati poi vorranno portati in giro e quindi questo dovrà essere quello che avverrà nelle imprese quindi l'utilizzo dei sensori dei droni dell'agricoltura di precisione dei satelliti i dati dei Sentinel 2 che l'ESA ha mandato in aria vedete il legame tra i big data quello che gli scienziati e gli agronomi avranno in mano che non hanno mai avuto dal punto di vista dei dati e le possibili soluzioni tecnologiche che potremo avere questo sarà quello che dovremo fare ogni giorno come sforzo trasferendolo poi facendo l'opportuna quantità di lavoro sulla preparazione dei nostri agricoltori dei tecnici insieme alle nostre università e a quelle di tutto il mondo e naturalmente lavorando in partnership internazionali perché una regione da sola può fare del suo meglio ma naturalmente deve lavorare con gli altri queste sono le partnership internazionali strategiche della nostra regione le indicava già stamattina il presidente Bonacini la California Guandonghi Cauteng è la regione dell'Asse della Nouvella Chitaine in Francia e in Europa su queste basi noi stiamo lavorando ed è stato anche per questo che quando ci è stato proposto di fare un punto sull'acqua farlo qui in Emilia Romagna farlo con cadenza internazionale ci siamo sentiti a casa di aver molto da dire grazie a tutti grazie 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 grazie